Buongiorno a tutti, mi trovo anche oggi in compagnia di Stefano, grazie per averci raggiunti Stefano. Ciao a tutti. Affrontiamo tre argomenti oggi e parleremo di The Resort, Alkaim e Itria. Da che cosa vuoi iniziare? Iniziamo da The Resort perché è la notizia del giorno. Che cosa è successo a The Resort? È stata liberata. Finalmente. Finalmente tra ieri e oggi, tutti gli ultimi quartieri, c'è stato veramente un crollo verticale della tenuta delle difese dell'Isis, dopo giorni e giorni di combattimenti serrati che ci sono costati molto cari. Se non come numero di caduti complessivi, l'esercito siriano, soprattutto nella difesa di The Resort, ha sostenuto battaglie ben più sanguinose di queste perché probabilmente… Gli assedi, sì, gli assedi devono aver avuto un impatto notevole in questi anni. Sì, perché non c'è un fronte in tutta la Siria dove abbia combattuto l'Isis, in cui l'Isis abbia avuto un numero di caduti paragonabile, paragonabile, attenzione, non che si avvicini, ma paragonabile addirittura ai caduti che ha avuto sul fronte di Dergi. Certo, certo. Si è accaduto nella difesa della città dopo tre anni di assedio, ne parlavano solo in termini legati alle sanzioni emesse contro di lui dall'Unione Europea. Sanzioni abbastanza assurde che non hanno alcun fondamento apparentemente, giusto? Guarda, le sanzioni erano basate su un episodio, tra l'altro, del quale lui era sospettato di aver dato quest'ordine di attaccare con delle artiglierie un somborgo di Homs, nel quale cadde, morì un giornalista francese, che non si capisce neanche bene magari che cosa facesse lì, visto che la zona era occupata dai... Sì, noi poi sappiamo che i giornalisti occidentali amano inserirsi nel contesto del terrorista. Quando sono stati presenti sui fronti siriani spesso erano dal lato dei terroristi e non da quello del governo. Quando invece abbiamo visto altri giornalisti molto più seri, come Giulietto Chiesa, Federico... Sebastiano Caputo, scusate, Sebastiano Caputo, o lo stesso Fulvio Scaglione. Fulvio Scaglione che tra l'altro è andato in pensione ufficialmente il primo di novembre, quindi lo salutiamo e lo abbracciamo come nostro amico, anche personale. e gli facciamo tanti auguri per la nuova attività pensione. Questa è cattiva, eh? Questa è cattiva. No, ma in realtà non credo che... Ah no, questi sono mestieri che non smetti mai. No, ma poi quando parli di una persona così stai parlando della passione vera del giornalismo. Certo, certo. Per soltanto abbiamo ancora queste perle tra i nostri giornalisti. Ecco, è una rarità assoluta. Certamente. Torniamo a De Rezor, Stefano. Tornando a De Rezor, abbiamo visto che queste battaglie sono state sì pesanti, ma non come avrebbe potuto esserlo una difesa di una città occupata, se non che fosse successo qualcosa. Cioè, le difese dell'Isis si sono devastate quando l'esercito siriano ha portato il suo attacco per rompere l'assedio. Per rompere l'assedio abbiamo visto i continui contrattacchi, i tentativi di impedire il rientro di questi soldati. Lo stesso attacco che vi ricordate di cui avevamo parlato a Madan, di cui non si capiva neanche bene il significato. Le risorse a cui hanno attinto sono state quelle delle loro difese. Le loro difese che quindi sono state scoperte sul lato est delle Eufrate, a tutto vantaggio delle forze kurde che avanzavano, e chiaramente poi a danno dell'esercito siriano, che le ha però travolte grazie all'utilizzo anche dell'aviazione, dell'aviazione russa in particolar modo, che agisce ogni tempo e a qualunque ora, per cui anche di notte sono attivi, e hanno devastato le loro difese, hanno perso tantissimi mezzi. Fondamentalmente Stefano, oggi la situazione dell'ISIS qual è? È frammentata? È nei guai al confine con l'Iraq, perché l'esercito sta avanzando in queste ore? Allora, adesso andiamo a vedere intanto la mappa del 26. Del 26 ottobre, guardiamo dei Resor. E vediamo in che condizioni era. Il 26 ottobre era... Ti ricordo che hai abbassato la finestra di Skype. Ah, scusatemi. Ecco qua. Il 26 ottobre, cosa è successo? Avevamo dato la notizia della liberazione integrale dell'isola di Sakhar. L'isola per liberarla quale era caduto il generale Issam Zahareddin, che si era appunto recato sulla prima linea del fronte, per controllare la situazione delle difese dell'ISIS e stabilire il piano di battaglia, quindi il punto dove era meglio attaccare per penetrare le difese nemiche. Poi vediamo che la situazione si era evoluta perché attaccavano le forze siriane sia dal lato, diciamo, sinistro dello schieramento per chi guarda, quindi il lato ovest, sia da sud. Quindi attaccavano dove c'è lo stadio, nella zona del vecchio aeroporto, quindi più vicino alla Saker Island, e spingevano verso l'alto. Se andiamo poi all'immagine successiva... Un secondo Stefano che ci stiamo preparando. Questa qui è risalente, mi sembra, al primo di novembre, quindi nel giorno di ogni Santi andiamo... Va bene, andiamo alla seconda immagine. Sì. Che cosa è successo? Vediamo come si sia già ridotto in pochi giorni, quindi in cinque giorni dal 26, si era andato riducendo il fronte. Era stato liberato quindi lo stadio. Le truppe siriane avevano addirittura superato, ricordiamoci, lo scenario di cui stiamo parlando. E cioè, è uno scenario di guerra urbana, quindi close quarter combat. Questo scenario è il più difficoltoso. Il più difficoltoso perché ad ogni angolo, ad ogni finestra, può esserci una trappola, un cecchino, un agguato e via dicendo. Il fatto che le truppe siriane siano riuscite a un certo punto ad avanzare con una velocità crescente, ci dà l'idea del cedimento delle difese. Cioè che il numero di soldati superstiti nelle file dell'Isis si era ridotto oltre una soglia di sostenibilità. E quindi non riuscivano più a coprire la difesa dei vari fronti e dovevano ritirarsi. Questa ritirata però causa che cosa? Il crollo delle difese, la confusione, quindi alcuni che rimangono isolati, superati dalle linee dei nemici e vengono poi isolati, individuati. Quando non c'è contatto tra i vari gruppi probabilmente diventa sempre più facile riuscire a penetrare nelle loro difese e dividerli. Bravissimo Sascha, esattamente così. E quindi poi che cosa succede? Poi questi si nascondono, si fanno le operazioni di pulizia, di bonifica, diciamo in questo caso, parlando di ratti, di bonifica del territorio. Ma si tratta anche di esplosivo o qualsiasi cosa, in questo caso bisogna pulire la città da cima a fondo. Teniamo presente il fatto che probabilmente essendo delle zone che loro fino a poco tempo fa occupavano non in vista di una difesa o di un abbandono, probabilmente non hanno avuto tutto questo tempo di minare in maniera, come abbiamo visto in altre realtà, come Palmira, Onza, ma tutti quei posti erano terribilmente... Minati, via dicendo. Qui erano minati i soborghi, questo sì. I soborghi perimetri esterni erano stati minati proprio per evitare l'eventuale arrivo poi dei... Così come la sfortunata uccisione di Sam, Sardine, che è morto su una mina all'esterno, bene o male, della zona. Sì, la versione che ancora... Che ancora regge, sì, è quella. Che ancora regge, sì, è quella. Io non ho visto le foto del veicolo. Sì, sì, questo è abbastanza disturbante. Non posso quindi fare un'analisi del tipo di danno subito per capire se è stata una mina o un razzo anticarro o altro. Per quanto riguarda quindi questo settore, vedete che c'era un isolotto nel quale, chiuso tra due canali, tra il canale e il fiume, in cui potevano eventualmente rinchiudersi a guscio le truppe, ma non ce l'hanno fatta, perché andando a vedere l'immagine ancora successiva... La stessa di oggi? Sì, questa mattina. Andiamo a vedere... E vediamo che l'intera città invece ha ceduto e praticamente è stata occupata e preso sotto la custodia dell'esercito siriano. Questo vuol dire che ci saranno degli edifici con qualche gruppo di miliziani presenti, ci saranno dei punti di resistenza isolati, ma non vi è più il controllo di alcuna parte della città in esclusiva da parte dei miliziani. Questo avviene quando il totale controllo sul territorio passa nelle mani di una delle due forze contendenti. I punti di resistenza sicuramente ci saranno, sono isolati, individuati o nascosti, verranno individuati quelli nascosti, si paleseranno magari dei cecchini isolati, come in ogni occasione di questo tipo di combattimenti, ma verranno poi eliminati e si può passare oltre. Quindi abbiamo risolto, dopo tre anni e mezzo, è un momento molto importante, spiace, ancora mi spiace ripeterlo, ma ricordare sempre questa figura per me è importante, spiace che non abbia potuto vivere questo attimo, questo momento, il generale Zahar Eddin, che tanto si era speso appunto per difendere 120 mila abitanti presenti in questa città, chiuso in assedio per più di tre anni, e che hanno trovato solo in lui l'elemento di forza e di tenuta di fronte a degli attacchi feroci e veramente continui da parte dell'Isis. Lui è stato protagonista. Sì, il protagonista unico è stato l'uomo sul campo che è riuscito a fare la differenza tra la disfatta e la morte di migliaia di persone e invece la loro sopravvivenza. Mi piace vedere che senza di lui sono comunque riusciti a reggere il colpo e avanzare. Ormai era questione di poco, nel senso appunto come abbiamo analizzato prima, il grosso delle perdite su questo settore, l'Isis l'aveva avuto, per difendere la città dall'arrivo delle forze che hanno rotto l'assedio. I continui assalti controffensive hanno una loro efficacia, una loro ragione tattica, però strategicamente sono costosi e quindi se non hai truppe poi di reintegro diventano addirittura suicidi. Bisogna dire che si tratta appunto di anni e anni di guerra, quindi molti dei miliziani che hanno iniziato la guerra tre anni fa oggi non ci sono più. No, soprattutto da parte dell'Isis con le perdite che hanno subito su questo fronte che fa impallidire quello che si è sentito di dire a livello di stime. Qui si parla di migliaia e migliaia di caduti Isis, non di centinaia come magari Aracca. Stiamo parlando di più di... Sì, non abbiamo neanche molte immagini degli attacchi aerei che ha subito la città di De Resor per impedire che l'assedio venisse a compimento. Sono stati eseguiti degli attacchi in particolar modo su punti mirati, ovvero su quelli che venivano individuati essere dei dei comandi e capisaldi. Non dei bombardamenti su edifici diciamo vicini alle linee del fronte anche perché in un ambiente urbano di questo tipo diventa molto... Ci sono cose civili probabilmente, sì. Nella parte siriana, sì, nella parte che era in mano all'Isis no, non c'erano. Erano scappati tutti. Anche perché ricordo che quando l'Isis era riuscita in uno dei suoi attacchi più violenti a rompere le linee siriane a occupare un quartiere della città ancora libera aveva portato via ragazzi anziani circa 400 civili in maggioranza uomini e li aveva decapitati. Sono stati trovati poi tutti decapitati. Sì, fanno ridere le nostre sanzioni europee a un generale come Issam e poi vedere che per delle responsabilità del genere non vi è alcuna risposta non vi è No, perché fondamentalmente noi abbiamo vissuto un periodo antecedente l'intervento russo in cui le forze della coalizione occidentale avevano in zona circa 200 caccia bombardieri eppure l'Isis avanzava e dilagava allora ci chiediamo come poi con 35 aerei tra aerei non caccia bombardieri ma aerei per la supremazia aerea tipo i MiG 30 si è riuscita poi quindi con 25 caccia bombardieri la Russia l'aviazione russa si è riuscita invece a imporre un'inversione di tendenza così drastica nelle nelle fila dell'Isis tanto da portare l'esercito siriano alla vittoria perché ricordiamo che se per due anni hanno finto possiamo dirlo anche questo questo tipo di attacco gli occidentali quando poi è arrivata la Russia hanno dovuto poi agire in qualche modo contro l'Isis e allora anche la stampa si è schierata ha preso coscienza del rischio terroristico che c'era che non si limitava più tanto alla Siria ma iniziava a colpire anche gli occidenti con gli attentati a Parigi purtroppo tre quarti degli attacchi aerei portati dalla coalizione erano diretti invece che verso l'Isis contro le forze governative probabilmente sì perché avevano parlavano di bombe intelligenti che però non colpivano nulla evidentemente colpivano il deserto non si capisce perché quando poi è arrivata la Russia a bombardare ha trovato centinaia e centinaia di autocisterne per il petrolio sempre intatte sempre in funzione e le ha distrutte non si capisce come sono state colpite colonne di rifornimenti di armi che arrivavano all'Isis che passavano la frontiera turca e la sproporzione dell'attacco su Raqqa anche sì fosforo bianco eccetera eccetera perché poi si è visto quando hanno iniziato a bombardare che sfacello abbiano fatto sulle città perché Mosul è stato al suolo e Raqqa forse anche peggio sì sì dicono che sia disabitabile ormai non si è più utilizzabile come nucleo no è rasa al suolo proprio cioè hanno fatto una cosa che non ce l'immaginiamo neanche che nemmeno in Aleppo dopo 3-4 anni di continui combattimenti con artiglieria dicendo non si era mai vista così cioè basta ma chiunque può digitare su YouTube e vedere il materiale video le prove ci sono quindi dicendolo le condizioni di Mosul del centro di Mosul o di Raqqa oggi e chiedersi che tipo di bombardamenti abbiano potuto mettere in piedi gli Stati Uniti e la coalizione occidentali e come negli anni precedenti all'intervento russi invece non abbiano mai fatto nulla sostanzialmente gli andava bene così perché in funzione antisiriana gli andava bene che dilagasse l'ISIS ricordiamo anche che la coalizione è un po' nei guai perché la Germania ha dovuto abbandonare la base turca di Incirlik a causa delle diatribe contro l'Europa gli americani anche a Incirlik metteranno piede soltanto con permessi o comunque sia avranno delle serie difficoltà oggi a portare delle operazioni all'estero questa causa del tentativo di golpe che ha minato molto la fiducia tra le nazioni certo sì perché quando il presidente Erdogan veniva dato in fuga in aereo non era in fuga stava girando intorno allo spazio aereo turco ha chiesto per approvare appunto chi fossero i paesi amici di atterrare in qualche paese europeo e tutti gli hanno risposto di no per conseguenza di ciò lui ha potuto capire chi fossero i sostenitori di questo golpe quindi Stati Uniti e alcuni paesi europei che gli avevano negato ogni tipo di aiuto e poi di conseguenza la Turchia avrà adeguato i suoi rapporti con questi paesi sembra sembra in effetti che anche con la Siria la Turchia abbia non dico normalizzato le relazioni ma comunque non ci siano scontri tra queste due nazioni no al momento ci sono cosa che prima non c'era attenzione la diplomazia turca non prendeva contatti con la diplomazia siriana perché la posizione ufficiale del governo Erdogan era che il presidente Assad dovesse abbandonare la presidenza per poter riallacciare i rapporti con la Turchia oggi non è più così la Turchia partecipa con regolarità agli accordi agli incontri in cui si parla della pacificazione di quest'area il prossimo è il 18 di novembre che si terrà se non sbaglio associ i partecipanti sono anche l'Iran l'Iran certamente l'Iran la Turchia la Russia parteciperà la Siria probabilmente il Libano e poi bisogna vedere anche dopo l'incontro con il presidente Putin la posizione di Arabia Qatar è possibile che ci siano anche loro perché sono parte in causa dal lato dei terroristi e poi le delegazioni delle opposizioni siriane che parteciperanno che sono sempre ricotteranno anche questa volta come è successo a Ginevra e tutte le altre volte a Ginevra erano altri tipi di collegamenti qua anche l'altra volta c'erano quando sono state stabilite le zone di de-escalation che sono state tra l'altro rispettate abbiamo visto che erano presenti anche le forze dell'opposizione e quindi ben vengano ti chiedo scusa hai parlato di zona di de-escalation la zona attorno in Libano faceva parte di questa zona di de-escalation dove sono stati attaccati i russi sì però non per quanto riguarda il Nusra ho capito ho capito sì 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 altrimenti detta HTS HTS è un'organizzazione legata ad Al-Qaeda ed è ancora riconosciuta come parte combattente attiva e poi lo vedremo adesso tra un attimo nella zona di Itria nella sacca di Idlib appunto nel nord della provincia di Yama come si stanno muovendo i fronti andiamo adesso invece a vedere che è successo al confine tra l'Iraq e la Siria siamo a Al-Qaeda il 26 di ottobre benissimo il 26 di ottobre quindi abbiamo visto che la 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 attraverso il deserto in cui peraltro è comprovato che si fosse ritirata l'Isis da quelle posizioni nel deserto così sono indifendibili probabilmente non hanno neanche i medici la possibilità di ricevere più i rifornimenti cibo e acqua nel deserto non si trovano e non si possono recuperare in zone disabitate e quindi si erano ritirati l'esercito iraccheno ha occupato tutta la zona e è arrivata a ridosso a ridosso proprio di alcaim dove poi si sono stabilizzati se vedete la scritta alcaim esattamente al centro della mappa tutta la parte a destra e a sud dove ci sono installazioni industriali petrolifere sono state tutte occupate andiamo a vedere la situazione odierna e vediamo che la mappa era di stamattina probabilmente doveva ancora essere aggiornata ma la notizia del giorno è che alcaim sia stata liberata dall'esercito siriano e quindi quest'ultima roccaforte isis nel territorio iracheno scusate ho detto siriano prima va bene è iracheno dall'esercito iracheno l'esercito è riuscito a concludere la liberazione di quest'area quindi di alcaim sono pochi chilometri Stefano tra alcaim e mayadine giusto? mayadine sono mi sembra un'ottantina di chilometri tra alcaim e mayadine possiamo ipotizzare un ricongiungimento dei due eserciti al confine dunque i due eserciti al confine potrebbero addirittura collaborare nel senso che c'è la possibilità che l'esercito iracheno con l'esercito siriano per portare l'attacco ad abu kamal perché praticamente abu kamal non è nient'altro che la parte siriana di alcaim sono proprio i valichi di confine è l'ultima roccaforte fondamentalmente hanno detto questi sono gli iracheni noi ci ritiriamo all'interno del territorio siriano e loro non ci inseguono in realtà stanno siccome ci sono molte milizie anche tra l'altro sciite su questo fronte che combattono l'isis stanno vagliando la possibilità di attaccare insieme le residuali forze isis vorranno dei seri accordi diplomatici prima di intraprendere azioni del genere per evitare ogni malin diciamo ogni sì sì ma ogni malinteso giustamente perché gli errori capitano per quanto riguarda anche poi il controllo dei territori eventualmente liberati le catene di comando poi devono essere legate insieme sulle posizioni poi quello che riguarda il collegamento proprio anche logistico per sapere dove si trovano le truppe in caso di bombardamenti aerei credo che sia un'altra di quelle cose in cui i russi sarebbero i benvenuti a gestirle probabilmente sì ci sono le milizie tra l'altro sciite che sono cateche ezbollah sono legate tra l'altro all'ezbollah libanese su questo fronte c'è l'ezbollah libanese infatti dalla base T2 che abbiamo visto nella mappa precedente in mezzo al deserto sono presenti diverse truppe speciali di ezbollah che probabilmente potrebbero anche fungere da collegamento visto che ormai tra l'altro il confine la frontiera con l'Iraq è in condivisione in gran parte tra le due forze degli eserciti passare dall'altro lato e coordinarsi con fare da ponte di collegamento tra le due forze armate è un esperimento già fatto con il Libano e l'esercito libanese potrebbe essere replicato qui con l'esercito iracheno l'esercito libanese si era coordinato con quello siriano tramite ezbollah sul fronte della sacca di Arsal se vi ricordate se questo sistema continuasse a funzionare Israele sarebbe decisamente preoccupata perché ezbollah comincia a gestire troppe cose per quanto la riguarda fermo restando che ezbollah non è una forza che abbia mai attaccato invaso israele ed è vero invece il contrario e cioè che Israele abbia invaso e occupato più volte il Libano quindi ezbollah è più un esercito che si difende che un esercito che attacca quindi le preoccupazioni di Israele sono per il suo predominio su queste zone non per la difesa del suo paese Israele è un paese predatorio non è un paese che tende a difendersi negli ultimi 30-40 anni si è una questione di egemonia territoriale vuole cementare l'egemonia vuole aumentare la divisione tra questi stati vuole indebolirli con le guerre interne otterrà risultati opposti cioè otterrà degli stati più forti con dotati di eserciti più forti come abbiamo già visto l'esercito siriano è più forte di quello che c'era all'inizio della guerra anche se ha subito molte perdite immateriali la capacità umana di gestione di questa guerra l'esperienza acquisita dai soldati non è una cosa che si può trasmettere semplicemente attraverso l'addestramento è invece così acquisita i comandi sono stati selezionati proprio è il caso di dire le tattiche anche sono state verificate sul campo quelle efficaci e quindi adesso l'esercito siriano è più forte di quello che c'era prima della guerra è una sorta di eterogenesi dei fini volevano ottenere un risultato neotterrano e oltretutto si dovranno digerire pian piano la presenza dell'Iran Israele nei giorni scorsi ha compiuto un ennesimo attacco aereo contro la Siria non contro le forze terroristiche caso strano l'abbiamo già detto più volte che Israele con i mezzi che ha poteva spazzare via l'Isis dal sud del Libano scusate dal sud anche del Libano dal sud della Siria c'è Al Qaeda presente in forze minoritarie perché nel sud sono più forze legate invece abbiamo visto portare loro assistenza medica abbiamo visto di tutto di tutto probabilmente ben altro dell'assistenza medica gli hanno fornito e niente perché qualche colpo di mortaio con le scritte in ebraico sono comparsi a Mayadin è vero? sì hanno trovato hanno trovato diverse forniture militari in questo caso sono state riportate queste notizie da più fonti sia russe che siriane quindi si può ritenerle non crediamo che li abbiano rubati quindi queste qui no perché non mi risulta che l'esercito iracchiano ne fosse dotato di forniture israeliane cosa che invece si poteva dire per le forniture americane le forniture americane o NATO tra virgolette possono essere tranquillamente state reperite dall'ISIS non da al-Qaeda o da altre forze in Iraq attraverso due strade la prima attraverso l'occupazione delle caserme in Iraq abbandonate dall'esercito iracheno che era in fuga che si è disperso poi verso sud di fronte all'avanzata dell'ISIS e quindi l'ISIS ha cannibalizzato tutto quello che trovava artiglierie hammer di tutto e poi attraverso una seconda fonte cioè la compravendita attraverso il mercato nero finanziato dal petrolio finanziato dal petrolio ma attenzione attraverso i canali dei moderati dei terroristi moderati si suol dire che occupavano ad esempio la sacca di glib che venivano riforniti abbondantemente da Europa e Stati Uniti attraverso la Turchia con materiali uno per tutti i razzi anticarro che sono di produzione americana e che non puoi comprare nel supermercato pur avendo i soldi del petrolio pur avendo tante cose non solo edita li puoi avere solo se ti vengono forniti dietro bene placido degli Stati Uniti e quindi se li hanno tutti logicamente anche il Qatar e l'Arabia Saudita che sono dei gran compratori di quel genere di materiali possono essere dietro queste transazioni sì ma nei contratti è sempre previsto comunque un controllo poi nella cessione successiva da parte degli Stati Uniti altrimenti loro poi ti vincolano per quanto riguarda le forniture future perché ti dicono se tu non accetti questo tipo di accordi che quindi potrai cederle ma solo dietro informativa a noi e il nostro bene placido magari hanno avuto il bene placido per questa operazione sicuramente sì e poi attraverso la Turchia hanno fatto fluire di tutto ma probabilmente erano già presenti nei magazzini turchi e semplicemente sono stati venduti e trasportati poi lì perché poi alla fine delle fini non è che possono fare arrivare delle navi se non hanno i porti o degli aerei se non hanno gli aeroporti arrivava tutto via terra e il confine praticabile era quello con la Turchia non ci sono altre possibilità che non magari forniture minori attraverso la permeabilità dei fronti interni per quanto riguarda le sacche quindi attraverso canali di corruzione e via dicendo però ma è poca roba ecco non sono quei camion di materiali che puoi portare la strada è quella andiamo a vedere quindi dopo al camion adesso vedremo nei prossimi giorni come si evolverà stiamo seguendo con molta 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 attenzione queste ultime fasi dell'Isis che ormai questa candela che bruciava da due lati ha fatto tanta luce ma dura la metà e si sta spegnendo andiamo oltre e vediamo il fronte della sacca di Idlib ci siamo il fronte della sacca di Idlib dove avevamo visto come chiudendo la sacca di Ama Oms quella che si era creata quando quel saliente era stato spezzato dall'avanzata del quinto corpo d'armata siriano da sud e delle unità tigre da nord era stato spezzato in tre tronconi la parte di Deir Ezzor la sacca centrale la sacca di mezzo come l'avevamo chiamata e la sacca di Ama Oms la sacca di mezzo poi avevamo immaginato che venisse immediatamente abbandonata dall'Isis e così era stato è stata in gran parte abbandonata a favore di Deir Ezzor e di Ama Oms e Ama Oms poi è stata eliminata ma una parte di questi miliziani era riuscita a passare in fuga attraverso le linee delle truppe che assediavano la sacca e a rifugiarsi a sud di Itria Itria quella città all'incrocio che vedete lì segnata con una stella dove vediamo il soldatino il rosso e bianco esatto però quella è la zona di Itria qui a sud dove ci sono delle altre bandiere che indicano delle postazioni prese dall'esercito siriano si erano rifugiati questi miliziani dell'Isis che poi hanno attraversato la strada di comunicazione tra Itria e Salamia che è più invece verso Ama qui a ovest cioè a sinistra della mappa ma non la vedete adesso inserita lungo l'autostrada 42 esatto lungo l'autostrada 42 hanno attraversato l'autostrada 42 e sono passati nella sacca di Idlib dove hanno attaccato le forze dei terroristi di Al-Qaeda perché questo? perché cercavano di crearsi uno spazio all'interno di questa oasi protetta diciamo da una sorta di tregua temporanea e cercavano di trovare una zona una via di scampo lì per trovare rifornimenti perché non avevano più nulla per prendere le forze per prendere le forze e quindi non avendo più rifornimenti non avevano più neanche forniture di cibo e acqua le hanno ritrovate ma sono stati poi fermati dal Al-Qaeda prima e dall'esercito siriano dopo che li ha attaccati a sua volta eliminato prima la sacca la piccola sacca a sud di Itrian controllato che non ci fosse più nessuno e poi hanno dato l'assalto a quella di Idlib dove si erano installati i terroristi dell'Isis cosa hanno fatto? Hanno iniziato ad avanzare trovando poi la possibilità di attaccare un fronte debole di Al-Qaeda e quindi hanno iniziato ad avanzare ad andare oltre quella che era la posizione occupata dall'Isis e hanno iniziato a portarsi lì questa è la situazione tra l'altro di oggi se non sbaglio e quindi vediamo come loro hanno ricreato il margine tratteggiato in grigio e rosso segnava la zona di ipotetico de-escalation in caso avessero aderito anche quelli di Al-Nusra e quindi vedete come l'esercito siriano sia avanzato e stia ancora avanzando all'interno di questa parte occupata da Al-Qaeda alcuni dell'Isis sono riusciti a scappare ancora lungo la 42 e a infilarsi di nuovo più a sud vedete qui in basso di nuovo si sono incuneati tra Jais al-Islam e Al-Nusra per cercare un via di scampo ormai qui siamo alla disperazione stiamo parlando di superstiti che si muovono da una sacca all'altra che logicamente hanno sempre meno munizioni sempre meno cibo e sempre meno speranze e sempre meno speranze e quindi sono disperati e cercano una via di fuga che difficilmente troveranno ecco e comunque abbiamo finito questi fronti abbiamo esaurito gli argomenti di oggi ti ringrazio Stefano per questi collegamenti perché è sempre molto esauriente guarda dalle ultime volte quando abbiamo dovuto dare le notizie tristi almeno oggi abbiamo dato per la miseria tre buone notizie cioè tre buoni tre buoni progressi dei Rezzor finalmente libera dopo dopo tre anni e mezzo Alcaim Roccaforte ultima Roccaforte irachena finalmente liberata dall'esercito iracheno e poi anche questa avanzata che sta avendo una bella novità in effetti perché riapre un fronte chiuso bravo perché la sacca di Idlib eliminata l'Isis è un possibile successo tu me ne hai parlato molto spesso della sacca di Idlib come un obiettivo prioritario dal punto di vista strategico esatto perché l'Isis dal mio punto di vista era già morto come nemico della Siria diversi mesi fa diversi mesi fa quindi a inizio addirittura del 2016 si poteva dare come morto bruciato attenzione bruciato a esaurimento nel senso che ormai non era più non aveva più appoggi perché bruciato nell'opinione pubblica mondiale e quindi passibile di sostituzione con altri sono stato a un bell'incontro per i festeggiamenti del centenario della rivoluzione d'ottobre a Bologna e lì tanti mi chiedevano appunto notizie delle possibili coinvolgimenti e sviluppi con i kurdi cosa di cui abbiamo già discusso e che è un argomento che più di tutti sembra interessare questo interesse c'è anche per l'attenzione che i media hanno dato all'occupazione alla termine all'accompletamento dell'occupazione di Iraq da parte delle delle truppe dell'SDF e dell'YPG quindi continuiamo a parlare di occupazione un grande risalto venduta come liberazione in realtà si tratta di un'altra occupazione e tutti sono molto pensierosi sul fatto di quello che potrà succedere dopo e lì purtroppo è chiaro se i kurdi e le SDF accetteranno di riconoscere la legittima sovranità siriana su quei territori bene sì sarà anche garantita loro probabilmente una certa autonomia come da accordi precedenti dell'impegno avuto magari anche il loro inquadramento nell'esercito siriano non c'è nessun problema presumo anche per un fatto che anche l'esercito siriano ha le donne tra le sue fila non sono solo le guerrigliere kurde come ci vendono le nostre televisioni quindi seguendo lo schema già fatto per la riconciliazione con altre sacche di ribelli anche a loro potrà essere steso questo tipo di perdono sempre a patto che riconoscano la sovranità e si si ripongano di nuovo sotto la bandiera siriana viceversa verranno trattati per quello che sono delle milizie di occupazione la guerra continuerà pacificamente tra virgolette nel senso che è una cosa che si può dare già per scontata che questa guerra continuerà se non ci sarà questo tipo di riconoscimento loro puntano a barattare quindi a ricattare l'esercito il governo siriano dicendo ah noi adesso controlliamo i pozzi di petrolio se voi non ci date non ci date dell'autonomia non trasformate questo stato in uno stato federale che ruggiava altre cose così che vanno fuori già sentite trite ritrite non hanno capito credo che dopo anni di guerra così combattere quattro mesi sei mesi in più all'esercito siriano a questo punto non cambia nulla come per l'esercito iracheno che l'ha dimostrato annullando completamente qualsiasi referendum kurdo per il Kurdistan sono in Iraq sono falliti Barzani si è dimesso si si ma sono falliti in una settimana quelli i colloqui sono falliti di conseguenza loro hanno detto noi proseguiamo andare avanti se voi rinunciate a riconoscere quel referendum lì e tornate a ritenervi iracheni bene c'è il federalismo c'è il coinvolgimento nel governo ok si proseguirà così non volete farlo benissimo è una vostra scelta non è un problema se sono stati in guerra fino adesso proseguiranno ancora qualche mese forse i kurdi arriveranno a capirlo forse sempre tardi arrivano però prima o poi lo capiranno che sbagli hanno fatto e di chi si sono fidati soprattutto va bene ringrazio siamo arrivati a 45 minuti e la chiudiamo qua ringrazio per le domande che mi sono state fatte dagli amici di Bologna sì sì ma costantemente sei ricercatissimo alla prossima Stefano ci vediamo ciao a tutti ciao 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 ciao